Sì, diciamo che ho dato tutte le mie forze, le ultime forze, perché questa partita diventava nostra, finiva e dare una gioia anche ai tifosi che se la meritano e dare una gioia anche a tutta la nostra squadra. Sì, diciamo noi quando andiamo in panchina tifiamo per i nostri compagni, poi però appena il mister ci manda a scaldare ci guardiamo negli occhi come oggi ho fatto con Giuseppe e io ho detto sull'1-0 per loro, io ho detto ora entriamo ma dobbiamo per forza vincere, quindi è già capitato due o tre volte che magari poi l'altra volta è entrato solo lui però ci sono già due o tre volte che ce lo diciamo, quindi significa che siamo un grande gruppo e abbiamo una grande forza. Sì, il nostro pubblico deve essere la nostra arma in più, pian piano stiamo migliorando ma io da loro mi aspetto molto di più perché nel mio passato li ho vissuti e so quanto ci possono dare. No, no, è assolutamente vero, negli ultimi anni ho avuto delle difficoltà, mentre quest'anno ne parlo anche sempre con la mia famiglia e lo dico sempre, mi trovo molto bene con il mister e so che comunque se non gioco dall'inizio so che magari posso entrare e come oggi devo cercare di spaccare le partite, di fare del mio meglio per la squadra. Sì, noi abbiamo passato quel periodo delle tre sconfitte ma allo stesso tempo noi gruppo, noi squadra, noi tutti sappiamo la nostra forza ci siamo riuniti e abbiamo fatto sì che queste tre partite le dobbiamo vincere a tutti i costi ma ora come abbiamo detto col mister, con tutti, dobbiamo pensare passo dopo passo e andiamo tutti verso l'unico obiettivo. Sì, è tantissimo perché giocare ti permette di stare meglio, di prendere fiducia però a noi non è importante il modulo, sappiamo quanto siamo forti ma dobbiamo andare in campo con una forza, con un'anima, con il cuore e vediamo che ogni partita abbiamo sempre questi risultati che stiamo avendo le ultime tre.